Avere una base operativa in un posto così strategico, a cavallo tra Campania, Puglia, Basilicata, ci permette di garantire ai nostri clienti un rapido dispiegamento dei nostri tip di assistenza. Ciò si traduce in interventi di manutenzione tempestivi ed efficienti sugli impianti eolici, che velocizzano i tempi di intervento e la risoluzione dei guasti. Oltre a questo, abbiamo una moderna officina molto attrezzata, dove siamo in grado di effettuare riparazioni, assemblaggio, rigenerazione di componenti delle turbine eoliche, allungandone il ciclo di vita e favorendo un sistema integrato di economia circolare, in grado di garantire sostenibilità economica nonché ambientale. È, e sarà sempre più centrale, la gestione del capitale umano. La nostra politica gestionale fin dalla nascita di Light Twin Service è stata impostata sulla pianificazione di percorsi interni di professionalizzazione e crescita. Il programma Skill Up, che rappresenta la nostra scuola interna di formazione, prevede una selezione di profili di ragazzi coerenti con i nostri valori e una serie di moduli tecnici che possano permettere loro un inserimento più rapido e veloce in azienda. Nel 2022 abbiamo ricevuto il riconoscimento per la sensibilizzazione all'inclusione e all'integrazione, per le aziende che a livello regionale si sono impegnate in modo particolare nell'integrazione e nel coinvolgimento dei giovani provenienti dai centri di accoglienza per i rifugiati. Oggi, grazie a questo approccio, possiamo contare su oltre 40 risorse, tra tecnici manutentori altamente specializzati, tecnici specializzati e ingegneri, con un'età media molto bassa, di circa 28 anni, che garantiscono standard molto alti di assistenza e delle lavorazioni. In un sistema di economia circolare i componenti non vengono direttamente smaltiti dopo il loro ciclo di vita, ma vengono rigenerati, ovvero si esegue una riparazione recuperando le sottocomponenti in buone condizioni e sostituendo quelle danneggiate. Con la rigenerazione si hanno notevoli vantaggi legati principalmente alla riduzione dell'approvvigionamento dei componenti nuovi e dello smaltimento degli stessi a fine vita. Minore impatto ambientale, riduzione dei fermi macchina, riduzione dei costi, riduzione dei tempi di approvvigionamento materiale, riduzione dei problemi logistici, riduzione dei costi di smaltimento, nuove opportunità di business. Nella sede produttiva Lighting Service di Lacedonia abbiamo iniziato le attività di refurbishment dei generatori nel 2020. Dal 2022 abbiamo iniziato la rigenerazione di altri componenti di cui fa parte una turbina eolica Lighting. Prevediamo che nel 2023 riusciremo a completare la rigenerazione di oltre 700 componenti tra magneti permanenti, pinze e freno, centraline idrauliche e motori elettrici. I componenti rigenerati vengono testati e certificati in modo da garantirne alti standard qualitativi e funzionali nel rispetto delle disposizioni in termini di sicurezza sul lavoro. La mia esperienza presso Lightwind inizia nel lontano 2012, quando ho avuto l'opportunità di diventare un collaboratore dell'azienda. All'inizio ho avuto il privilegio di contribuire personalmente allo sviluppo e alla crescita di Lighting Service, occupandomi della manutenzione ordinaria delle turbine eoliche. Con il passare del tempo mi sono focalizzato maggiormente sulla risoluzione dei guasti, affrontando sfide sempre più stimolanti. Questo mi ha portato ad assumere il ruolo di supervisore, guidando e gestendo i team di lavoro in modo efficace. Oggi sono orgoglioso di ricoprire il ruolo di region manager, una posizione che mi consente di affrontare obiettivi nuovi e stimolanti. Questo ruolo mi offre anche l'opportunità di continuare a sviluppare le mie competenze, consentendomi di crescere ulteriormente, sia come professionista che come individuo. Il nostro impegno è volto alla costruzione di un futuro più sostenibile attraverso la nostra gamma di prodotti green e alla diversificazione del processo produttivo. In questo modo contribuiamo attivamente alla transizione energetica ed ecologica, garantendo al contempo un'elevata qualità ed efficienza dei nostri aerogeneratori.